ed eccoci live finalmente per la prima per il primo appuntamento dell'ultimo giorno dell'ultrapop festival ciao sono umberto ovviamente sono iper cotto chiedo scusa in anticipo per questa faccia stra stanca però ci capirete oggi partiamo alla grande perché partiamo con un ospite che adesso vi presento l'avrete già visto lo conoscete siamo con riccardo breccia già ospite al nostro cortocircuito youtuber spero che riccardo non si offenda diciamo come come ti definisce riccardo dammi tu la tua definizione che non voglio dire cosa sbagliato buongiorno a tutti grazie per avermi invitato allora no ma in realtà va bene youtuber anche se io di professione sono designer poi ho anche questo canale youtube dove chiaramente comunque cioè racconto un po la mia storia però sì designer e appunto canale su cui su cui racconti di design diverse cose ci siamo già parlati qualche settimana fa quando è stata non è stata mostrata per la prima volta playstation 5 sei venuto a raccontarci la tua in maniera molto più competente rispetto a quello che avevamo fatto noi in precedenza sul design di playstation 5 e visto che avevamo la scaletta dell'ultrapop abbiamo detto perché non tornare sull'argomento design delle console non soltanto parlando di playstation 5 chiaramente è un argomento stra interessante l'argomento del momento però un po limitato proviamo ad allargare un pochino il la questione quindi quello che faremo il riccardo è fare una chiacchierata molto informale su il design delle console quelle che ci piacciono soprattutto quelle che piacciono lui che punto è infinitamente più competente in generale cosa fa un buon design delle console e vorrei partire proprio da qui riccardo perché ripensando un po quello che c'eravano detti a quello che va anche di cui avevano chiacchierato durante l'appuntamento del cortocircuito di qualche settimana fa ripensando un po al design di playstation stavo pensando che comunque alla fine la questione è sempre che il design cosa fa un buon design di un prodotto chiaramente dipende dalla tipologia di prodotto perché quel design di playstation 5 probabilmente se fosse stato utilizzato in qualche modo non lo so per fare un palazzo che doveva svettare in una skyline di una città sarebbe stato diverso rispetto a metterlo in un salotto quindi cosa fa per te un buon design per una console si no no è tutto giusto cioè in realtà il concetto è molto più largo nel senso che non c'è un buon design per una console c'è un buon design in generale del prodotto e un buon design deve rispondere a diverse regole sono in primis rispondere a un'esigenza di un target specifico la persona a cui ti sta rivolgendo che problema ha e come pensi di risolverlo e poi ci stanno delle mini tappe da spuntare che sono il prezzo che sono appunto il fatto che debba essere semplice che possa essere iconico riconoscibile però ci sono appunto delle regoline che indicano un buon design cioè il prezzo può essere uno degli obiettivi di progetto ed è uno magari dei problemi che il designer deve risolvere non solo a risolvere un problema no magari il prezzo è il problema stesso magari tra gli obiettivi del progetto c'è questa console deve costare 300 euro come cavolo facciamo e quindi il designer deve riuscire a far quadrare tutto e rispettare questo limite del prezzo ok e prima stavo abbiamo chiacchierato ovviamente un pochino anche per via in diretta prima di questa live stavo vedendo un po' quali sono le tue console preferite di sempre tra queste ci sono ps1 quella fondeggiante e playstation 2 slim sono due console molto diverse tra loro che fanno parte di due momenti diversi di playstation come brand appartenente a sony c'è chiaramente c'è un c'è stato un momento quello della prima playstation che aveva quel tipo di design poi rivisto in playstation 1 e poi diciamo da playstation 2 forse c'è stato più un filo conduttore tra tutti i vari design delle console playstation fino a playstation 5 tu vedi una sorta di orizzonte verso cui si muove sony? un processo oppure sono tutti prodotti diversi? ma guarda secondo me questo punto di vista assolutamente personale secondo me no nel senso che loro si prendono sony si è sempre preso la libertà di poter cambiare in modo totalmente incontrollato l'estetica le estetiche tra loro sono diverse in realtà nelle ultime generazioni si avvicina solo il colore cioè si rispetta solo il colore in realtà anche questo nero, questo tema monolitico però sono tutte molto diverse tra loro in realtà è una cosa che sony ha sempre fatto anche in altre classi di prodotti ha fatto nelle cuffie ha fatto in altri settori quindi ci sta a differenza di altri come microsoft che hanno trovato un linguaggio di comunicazione un linguaggio estetico e adesso lo rispetteranno sony secondo me può fare quello che vuole da generazione a generazione e secondo te questo, perché appunto poi ne parliamo magari meglio di xbox di questo design tra virgolette trovato da microsoft questo continuo cambiare di sony è dovuto anche magari comunque hai lavorato anche in aziende anche in giappone è una libertà che si tengono è un non voler o un non saper trovare una sorta di proprio di filo comune di qualcosa che subito al momento a parte il logo ti identifica playstation sai che paradossalmente per quanto possa sembrare strano alle persone che ci stanno ascoltando può essere che non abbiano ancora trovato e non abbiano deciso non abbiano non ci siano non si siano messi a decidere una linea perché può essere cioè non è che per forza una grossa azienda deve avere per forza le idee chiare da qui a dieci anni microsoft ha deciso di rispettare questa di creare un linguaggio sony non l'ha fatto e va bene così quindi secondo me non l'ha fatto sì non ne ha intenzione di farlo per adesso ok e nello specifico visto che le abbiamo citate posso chiederti cosa ti piace di ps1 di playstation 2 slim un tuo parere più da designer io devo dire la verità ti dico la mia mi piace molto di più ad esempio la prima playstation originale rispetto a quella alla one tutta tondina non lo so quella è che mi sembrava quella tondina mi sembrava un po' una specie di sai gli ovetti quelli che si usano per mettere dentro le tesserine quando vai all'estero sembra un po' quella roba lì invece su playstation 2 slim sono d'accordo è bellissimo allora tutte e due sono dei redesign quindi il redesign in generale è molto più facile da punto di vista del designer è molto più facile il primo processo di progettazione quindi di definire la parte interna prima l'architettura puoi rispettare tutti i vincoli funzionali e puoi fare l'estetica quello è un casino incredibile infatti ma forse magari dopo li citiamo infatti in esempi come la switch che ha tantissimi problemi estetici anche di usabilità però da punto di vista del designer quasi glieli perdoni perché è una roba completamente nuova è complessa e quindi ci può stare magari un redesign e li miglioreranno quello che mi è piaciuto di PS1 è che era innanzitutto era piccolissima cioè il rispetto originale era piccolissima cosa che si vede ancora di più nella PS2 Slim che era veramente microscopica ma le forme erano molto raccordate tra loro cioè era molto compatta i tasti erano tutti in tangenza cioè erano tutti a filo era veramente una forma ben pensata da ogni punto di vista tu la guardavi dietro era fatta bene la guardavi sotto e io questo da designer è una roba che ha presso molta attenzione cioè il fatto che sia tra virgolette bella e curata da ogni punto di vista da sotto da dietro da sopra eccetera ti faccio un'ultima domanda su questa cosa da profano però man mano che parli mi vengono proprio delle mie curiosità hai parlato sono entrambi due redesign che fondamentalmente rimpiccioliscono un po' quelle che sono le dimensioni dell'originale per un designer quanto è importante l'ottimizzazione dello spazio cioè è inconcepibile il poter rimpicciolire ma non farlo oppure è assolutamente una cosa che che non va fatta è inconcepibile tra virgolette perché fa parte del buon design nel senso che se io posso fare un prodotto più piccolo perché tra l'altro tra le regoline oggettive di un buon design c'è il fatto anche ci sono dei piccoli vincoli tecnici cioè del farlo costare il meno possibile quindi se io posso fare un prodotto piccolo però una scocca grande io ho chiaramente della plastica in più che non ha senso dal punto di vista funzionale quindi se non ha senso perché farlo quindi si cerca sempre di farle cose io pensavo non lo so ti ripeto può far ridere perché nella mia totale ignoranza ma un vaso non è che debba per forza essere grande tanto quanto i fiori che ci mettono cioè può essere molto più grande perché voglio un oggetto che esteticamente non lo so assolve uno scopo nell'ambiente in cui lo metto cioè a me PlayStation 1 ad esempio non fa impazzire perché forse proprio perché è anche troppo piccolina e non lo so accanto alla tv al tempo mi sembrava una roba un po' cagata lì passami allora il vaso risponde ad un'esigenza diversa che innanzitutto non è un prodotto mass market quindi deve rispondere a regole diverse e poi magari tra le esigenze tra virgolette di progettazione del vaso c'era quella di trasferire un'emozione cosa che magari nella PlayStation non c'è la PlayStation deve essere figa economica e deve funzionare magari però quella cosa che dici tu nella percezione dell'utente molto importante noi designer la dobbiamo tenere in considerazione magari effettivamente in un contesto possiamo farla più piccola però sappiamo che l'utente vedendo una roba del genere magari va a pensare e magari non è abbastanza potente se è così piccola quindi tutti questi meccanismi psicologici sono parte della progettazione certo e invece prima hai citato Nintendo Nintendo che chiaramente è un un brand il brand attualmente produttore di console attualmente sul mercato che ha una storia più lunga e che è più anni che mette console sul mercato se io vedo le console Nintendo rilasciate facciamo dal NES fino a Nintendo Switch secondo me ci sono dei momenti abbastanza diversi nel senso il NES il Super Nintendo il Nintendo 64 e il Gamecube sono molto giocattolose non sono necessariamente tutte coloratissime però hanno tutti i pulsanti in plastica sono proprio un po' dei giocattoli poi arriva Nintendo Wii che ha questo design un pochino più affilato bianco anche con i riflessi e poi da lì un po' cambia con Wii U che è in continuità credo di poter dire con Wii e poi Switch che invece vuole quasi essere il massimo credo della funzionalità del mettere tutto quello che posso perché hai proprio la necessità di dover mettere tanti tasti e lo schermo e fare la console portatile lì c'è un filo c'è un prima e un dopo vedi qualche vedi un cambio in corso allora anche lì vedi forse intravediamo questa filosofia un po' giapponese del fatto che anche loro hanno la libertà poi decidiamo se è una roba positiva o meno di cambiare da console a console perché tra loro le varie console Nintendo sono tutte abbastanza diverse secondo me sai che la Wii fu un po' quello che è adesso la PlayStation 5 perché mi ricordo che ti dava una parvenza di futuro perché aveva questi colori bianco poi c'era questa luce azzurra ed era una roba strana però dal punto di vista tecnico del dettaglio non era e non è una bella console e ha dei dettagli che sono veramente orribili e addirittura dimmi i dettagli orribili di Wii beh era molto industriale cioè era un oggetto che poteva benissimo essere un come si chiama un DVD player poteva essere una TV box poteva essere qualsiasi di queste cose il pad come si chiamava il il remote il remote che era pezzo fondamentale di questo design aveva un'estetica davvero che sembrava il telecomando di un TV box di una roba industriale e addirittura loro che avevano in mente tutta questa usabilità così complessa che lo potevi utilizzare in orizzontale in verticale l'estetica di questo controller non ti suggeriva in alcun modo l'utilizzo cioè se tu lo mettevi in orizzontale tu dicevi io lo sto usando nella maniera sbagliata perché le scritte sono rovesciate non c'è l'ergonomia giusta da ogni punto di vista era tra virgolette sbagliato anche se vogliamo poi mi sto zitto perché se no qua continuo all'infinito anche se vogliamo lo strap come si chiama l'accetto l'accetto che mettevi quello era parte fondamentale del design eppure lì era una roba quasi esterna che dovevi mettere se è così importante nel tuo design dagli importanza rendilo colorato oppure fallo integrato nell'estetica fammi un'estetica che dopo si unisce a questo laccetto avrei voluto fare mille cose che diverse un po' più emozionali cose che non hanno fatto poi vabbè ci sono dei dettaglietti in senso che era un po' ti ricordi che c'era questo doc scelta estetica scelta estetica però anche quel doc lì non era granché bello poi da un lato c'era uno spigolo tagliato leggermente se lo guardate non so se vedete delle immagini adesso da vicino però quando fai una roba del genere decidi di tagliare un angolo e lo rendi un dettaglio estetico fallo di più non è che gli fai un angolino tagliatino piccolo che vedo non vedo insomma ci sono delle scelte estetiche che sono un po' in primis però quello più evidente è il fatto che questo controller era veramente un telecomando sì era il telecomando ma intanto ragazzi dico una cosa per tutti i ragazzi in chat raccolgo comunque un po' di domande perché poi alla fine se abbiamo tempo magari ci soffermiamo a rispondere Riccardo ci sofferma a rispondere quindi fatele pure io proverò a non perdermene troppe diciamo così però stavo pensando mentre rispondevi mentre dicevi la tua su Wii che volevo chiederti una cosa ovvero tu giustamente fai il designer il designer prende un prodotto che viene anche cioè anche un secondo dopo che viene annunciato che viene mostrato tu puoi dire la tua tecnicamente ma a livello di design poi il successo del prodotto ti permette ti da permette cioè ha senso tornare dopo per ridire la tua in base al successo del prodotto perché ti faccio ti faccio un esempio cioè io sono d'accordo ad esempio che Wii sia una console abbastanza brutta cioè è anche molto anonima potrebbe essere una roba di quelle tipo fatte in Cina con dentro tutti i giochi del NES cent'anni dopo e però allo stesso tempo ti dico che è stata una console di successo incredibile forse la console di maggior successo nella storia delle console e quel design forse pensandoci dopo ha permesso intanto di creare una linea di prodotti che erano ugualmente anonimi tipo la balance board tutta bianca che era veramente una bilancia e che però forse davvero erano adatti a quel pubblico mass market a cui alla fine è riuscito ad arrivare il Wii perché cioè veramente ci giocavano i genitori i nonni e non avevano un oggetto che era un giocattolo era un oggetto che per loro era un po' futuristico non si ponevano troppo cioè era anonimo e non rappresentava una sorta di di barriera di ingresso particolare cioè c'era soltanto l'esperienza di gioco cioè tornando poi indietro dicendo cazzo alla luce del successo alla fine però il design non è stato così male cioè era giusto? è un discorso assolutamente corretto potrebbe essere stato tra le loro punti da rispettare nella progettazione il fatto che non dovesse essere visto che l'idea era talmente innovativa e talmente pop che questo oggetto non poteva essere giocattoloso doveva essere per tutti quindi come abbiamo detto per il discorso la Playstation 5 un design abbastanza neutro il discorso che anche scegliendo stilisticamente un design neutro non è fatto benissimo cosa che invece secondo me è nel tutta la la famiglia di accessori erano riusciti a fare a fare bene perché comunque il volante la balance board avevano tutti un loro stile molto bello molto organico molto riconoscibile questa cosa che dici tu è estremamente importante infatti secondo me poi io adesso non ricordo bene perché la generazione del Wii U secondo me me la sono un po' persa però il Wii U siccome andava un po' non sei l'unico anche se perso andava un po' a correggere se vuoi le linee spigolose del Wii però lo faceva talmente tanto che la console a quel punto diventava troppo giocosa non per tutti cioè farmi vedere in autobus magari con il controllo della Wii U non so se si poteva fare la potevi portare in giro no dovevi restare in prossimità però comunque è un oggetto talmente giocoso che quasi mi ricorda lo scenario di Fisher Price chicco capito quasi troppo invece sulla Switch hanno fatto quasi hanno utilizzato delle finiture e dei dettagli che si sono un po' più giocose sono un po' più pop sono un po' più casual gamer però ti danno l'impressione che quello è un oggetto tecnologico di altissima tecnologia un bel dispositivo high tech e invece passerei oltre Wii U che appunto non è che sia stata non è una console particolarmente memorabile se non per alcuni giochi ovviamente ottimi però non è stato un successo Switch prodotto secondo me abbastanza cioè veramente da profano è un prodotto votato al 100% alla funzionalità e basta cioè ci vedi dietro un progetto di design oppure ogni tanto anche per allargare un po' il discorso ci sono dei casi in cui è il reparto degli ingegneri che comanda dall'inizio alla fine e non si discute allora le cose sono due nel senso che probabilmente ne ho discusso l'altro giorno con un amico che lavora in una grossa azienda di design famosa a livello mondiale su questa roba della Playstation 5 sul discorso che abbiamo avuto qualche settimana fa e lui mi fa anche lui ha lavorato in Giappone e lui mi fa probabilmente come dici tu nel senso che in Giappone hanno il problema delle gerarchie quindi c'è il team di design che fa la propria idea progetta la console e dopo lo consegna al team di design di ingegneri l'ingegnere dice si si può fare non si può fare vediamo cerchiamo di trovare una soluzione insieme probabilmente molte guarda un buon design è anche una buona comunicazione tra il team di design e quello di ingegneria in Giappone hanno molta paura a fare la voce grossa e quindi è probabile che alcune cose gli ingegneri abbiano detto come succede tantissimo in nostro settore abbiano detto così non si può fare e il team di design ha detto ok va bene e quindi poi quello che è nato nel caso della Playstation 5 è un un po' uno sgorbietto tra il progetto originale e il team di ingegneri che ha provato un po' ad adattare questa estetica probabilmente in parte è successo con la Switch che in generale è forse un buon design però è veramente complesso dal mio punto di vista è iper complesso ci sono dei dettagli estetici e anche a livello di usabilità che non sono particolarmente belli i tasti quando stacchi questi joycon si chiamano sì ci sono questi tastini piccolissimi proprio iper industriali hai la slitta in vista i due joycon tra loro non sono simmetrici uno ce l'ha più l'altro ce l'ha meno quindi vuol dire che se su schermo appare schiaccia più lo può fare solo uno ci sono due più e due meno nella console perché io mi immagino schiaccia più quale più devo usare quella del volume o quella sopra cioè ci sono queste piccole cose che sono dei piccoli errori design sembra sembra veramente un po' che venga fuori da cioè sia una checklist delle feature necessarie che doveva assolutamente avere e si è non riuscita a metterle tutte dentro in un modo o nell'altro e poi assolutamente ancora magari ci sono dei design che tu dal punto di vista tecnico i tuoi colleghi dal punto di vista tecnico criticano però poi evidentemente il pubblico ecco anche lì la quanto vale il parere di un designer quando poi invece il pubblico decreta un successo cioè come come lo utilizza magari come lo utilizzano le aziende come utilizzare un parere esperto magari negativo come in questo caso di fronte a un apprezzamento molto forte del pubblico no ma è puramente un commento cioè quello quello del designer era un commento perché magari noi non lo sappiamo però nel caso dello switch c'erano altri prototipi e altre idee altre soluzioni a dei piccoli problemi che potrebbe essere banalmente il come trasferire l'energia dal joycon alla console che poteva essere ben peggio quindi magari quello che hanno fatto è già un grandissimo successo però questo non toglie che si poteva fare ancora di più chiaramente come ho detto da una parte li giustifichi perché il progetto è iper complesso pardon è iper complesso e magari hanno delle tempistiche stavano stretti con le tempistiche quindi chiaramente più ci lavori più lo ottimizzi più lo migliori però magari per la pianificazione che avevano quello è il meglio che hanno fatto è fondamentalmente è ok va bene va benissimo e volevo invece passare poi al terzo protagonista odierno del mercato console ovvero Xbox Xbox che è partita tanti anni fa con la prima Xbox che era veramente un oggetto che cioè dallo stesso popolo che ha tirato fuori le hammer e certe robe abbastanza così bombastiche e però c'è stata una progressione importante tu prima l'hai iniziato ad accennare cioè se tu prendi la prima Xbox e la l'Xbox One S o la One X c'è chiaramente è stato un processo molto lungo migliorativo direi sì secondo me allora il grande cambiamento la grande evoluzione c'è stata quando Microsoft ha creato questo team interno di design di un talento straordinario perché secondo me è tra i team di design più forti al mondo ha avuto delle personalità dentro interessantissime ha avuto dei designer di muji coreani ha avuto delle influenze anche nordiche interessantissime e adesso molto forte prima già nel caso di Xbox vabbè precedente Xbox 360 e fino la One la One erano progettate da team da studi esterni studi di consulenza e quindi si sono messi con la One S che è stato forse il primo di questa linea estetica che adesso riconosciamo estremamente minimo alla squadrato hanno fatto un lavoro straordinario io vi ho lasciato un link che fa vedere nel dettaglio l'estetica dei dettagli di progettazione di questa Xbox One S ed è veramente eccezionale anche il fatto anche il come abbiamo risolto esteticamente delle problematiche cioè loro avevano questa grossa ventolona sopra quindi una griglia che sarebbe stata orribile dal punto di vista estetico loro cosa hanno fatto hanno detto noi la griglia la lasciamo perché è funzionale ci serve che debba essere lì ma la rendiamo estetica quindi hanno fatto la scocca superiore tutta forata dove la griglia della ventola era perfettamente nascosta e non ha l'impressione di essere una roba industriale ha l'impressione di essere una roba estremamente curata abbiamo un po' ripercorso quello che ha fatto Sony Nintendo Microsoft ti volevo fare una domanda chiaramente tutte e tre i brand se guardiamo il percorso che hanno fatto secondo me in molti casi ad esempio Nintendo se vai dal NES alla Switch ma anche Xbox se vai dalla prima Xbox a questa a quello che sarà la Series X ma appunto anche la One S che hai citato prima c'è chiaramente un percorso che non è probabilmente soltanto di design ma accompagna anche la crescita del videogioco come forma di intrattenimento per un pubblico molto più vasto cioè si va da il giocattolo tra virgolette Nintendo o la console Tamarra che è la prima Xbox fino a prodotti che sono sempre più probabilmente pensati per un palato più vasto anche più adulto in certi casi quando un designer lavora a un prodotto quali input a livello di mercato gli arrivano cioè gli viene detto chiaramente il target dell'acquirente è una cosa che deve sapere lui è una cosa che si percepisce perché magari nell'ambito in cui lavori per l'azienda per cui lavori cioè qual è il processo anche con gli altri reparti questa cosa qui varia da azienda azienda addirittura le diverse aziende grosse magari hanno delle filosofie completamente diverse non sappiamo dentro ogni quanto sia importante il giudizio del team di marketing in alcune aziende è cruciale addirittura si prendono delle decisioni che sono anche scomode per il team di designer a volte nelle realtà più piccole il team di design deve fare praticamente tutto quindi deve capire qual è il target di riferimento eccetera eccetera e deve andare avanti così e prima di passare ad altri discorsi volevo chiederti c'è qualche altra console del passato che ti piace che volevi citare o non c'è non so magari qualcosa che ti stuzzicava da raccontarci no io guarda l'altro giorno ho visto un po' di console vecchie c'era una console che avevo perso completamente l'Xbox 360e ok ok che era veramente un bel redesign considerando appunto che era un redesign molto figo era quella un po' AX giusto no 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 era sì lucido contrasto tra lucido opaco però era molto molto rigida incredibilmente non mi ricordo la 360e devo dire la verità immagino sia forse soltanto digitale no no ah l'Elite ah ok 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 il modello ok e figa poi boh nel senso la slim però è molto diversa non è non è una delle nuove Xbox cioè ancora un design no no ma là ancora non aveva un ultimo interno esatto però era un bel redesign poi cosa vabbè c'è tutto il discorso delle console portatili anche lì ci sono state alcune molto interessanti ti piace il design ci sono console portatili che secondo te sono interessanti cioè ce ne sono chiaramente di iconiche tipo il Game Boy è veramente una roba che conoscono tutti quanti è anche un bel design è soltanto un design iconico allora il Game Boy è un discorso fighissimo perché loro ci sono tra i tanti Game Boy Game Boy Color l'Advance che era completamente diverso proprio come usabilità hanno proprio riprogettato il modo in cui cioè il modo di giocare poi è stato l'SP che era ancora diverso è stato quel micro che era un'altra evoluzione alcuni sono molto belli altri ci fanno capire che Nintendo in realtà ha sempre un po' prediletto questa estetica molto industriale cioè gli ultimi DS i DS sono ancora in vendita io scusate sono ancora basta ormai basta sono proprio boomer ormai oddio magari magari in qualche cestone lo trovi però tipo il 3DS o non ricordo però è una delle estetiche che se tu le guardi nel dettaglio i fori dove passava l'area erano veramente agghiaccianti erano veramente brutte super industriali mentre tipo l'Advance era meraviglioso il micro che purtroppo è stato un grande flop a livello tecnologico a livello design era molto interessante ok volevo invece chiederti una cosa che mi sono appuntato e che è il mio parere quindi magari magari anche gli utenti sono curioso di sapere cosa ne pensano io trovo che tutte le edizioni speciali delle console siano orribili cioè tutte quelle adesso sicuramente in chat ne scriveranno anche di belle ci saranno ci saranno però tendenzialmente non so è così difficile fare cioè voglio dire quando noi vediamo gli oggetti di design ci sono in mille colorazioni diverse ci sono magari con mille fantasie ci sono collaborazioni che portano a rifarle in modo sensato sembra veramente che però le console in edizione speciale siano non lo so quasi volutamente brutte eh guarda qua spoglie una porta aperta perché sono d'accordo nel senso che a volte sono talmente customizzate che diventano quasi cafone secondo me la customizzazione ci sta però deve essere leggera io adesso ho davanti l'edizione di The Last of Us della Playstation 4 Pro che ha questa parte ricamata sopra che ci sta dopo però ci danno dentro sul pad c'è scritto The Last of Us c'è scritto The Last of Us cioè quando vai così tanto mi sembra mi sembra quasi una decisione meno da designer più da marketing mettiamoci il logo lì mettiamoci il logo di qua però a quanto pare piacciono non lo so se le fanno così forse rispondono a una necessità di utenti forse più giovani non lo so sì probabilmente di utenti suppongo di utenti super 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 appassionati che vogliono il prodotto e magari hanno anche allora ci può stare magari che chi acquista un prodotto così specifico che magari già ha e vuole andarlo a cambiare perché vuole magari si gioca nella sua stanza dei giochi nella sua cameretta o in uno spazio adibito al gioco piuttosto che che è in salotto però sì le trovo le trovo veramente sempre trovate molto brutte tra l'altro non ho preso nemmeno nessun vaffanculo in chat non lo so forse sarà la nostra età che ci porta ad apprezzare un po' più minimal siamo vecchi non so se hai visto prova a dare un'occhiata a quella di che ad esempio è molto apprezzata l'Xbox One X di Cyberpunk che è molto piaciuta agli utenti e io comunque trovo molto molto brutta cioè una scelta di colori non è il mio stile diciamo che sì è che vedi c'è questa è che secondo me sulle limited edition chiaramente hai il problema di doverla rendere riconoscibile perché devi fare qualcosa di diverso ma probabilmente la necessità di renderla molto riconoscibile crea delle cose che io veramente resto abbastanza sempre abbastanza sconvolto e comunque gli utenti piace molto poi in generale da designer non sono amante della simulazione delle cose nel senso che se mi fai una griglia o me la fai vera o non me la fai perché se tu mi fai uno stickers di una griglia fa schifo è come mettere uno stickers di una marmitta su una macchina cioè la marmitta o è vera o è vera ok in chat suggeriscono che è molto bella dai l'ultima ti faccio guardare l'ultima così la Xbox 360 edizione Star Wars che già ah beh ma non lo so nel senso che questo Xbox 360 non era tra i più in termini di forma non era tra quelli che preferivo però sì diciamo che rispecchia i colori Star Wars diciamo che per appassionato sì perché è iconica questa chiaramente si sfrutta il fatto che cioè rispetto a quella di Cyberpunk che non è che riprenda un design iconico in sé per sé un design Cyberpunk che per ora è generico almeno fino all'uscita del gioco qua chiaramente poggiando su quella colorazione su quella fantasia chiaramente è impossibile non pensare a Star Wars adesso lo stanno facendo tutta una lista non evitiamo di fare esatto ciascuno ovviamente ha la sua ha la sua opinione e invece ti voglio chiedere perché visto che c'è una tendenza negli ultimi che adesso si è anche un po' si è anche un po' placata però ci siamo fatti più di un anno a vedere le console mini ma non le console mini cioè il redesign tipo Playstation 1 che è il redesign della prima Playstation cioè proprio la versione miniaturizzata del NES del Super Nintendo ti piace la miniaturizzazione cioè secondo te sono oggetti perché poi fondamentalmente sono oggetti che sono quasi solo pensati per collezionisti cioè è quasi è quasi un gadget perché non hanno più una loro cioè non sono più l'attualità sono qualcosa che o sei nostalgico compri e te lo metti lì e ci passi qualche ora per dire cazzo come si stava meglio al tempo oppure non l'hai mai giocato e sei appassionato e dici vediamo com'è ti piace questa miniaturizzazione sono solo dei gadget si possono fare dei progetti belli oppure ma tu intendi tipo Playstation Classic quella roba lì no no proprio tipo il NES Mini il Classic NES sono se provi a guardare sono proprio le console tipo il NES piccolo il Super Nintendo piccolo ma ufficiali? sì 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 assolutamente ok allora quelle che ho di riferimento io sono tipo al Playstation Classic non so se ho la referenza ah sì 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 oppure certo oppure anche la Playstation Classic eh no boh sì 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 cioè piacevoli sono assolutamente un tributo mi sa che non funzionano neanche tutti i tasti nel Nintendo non penso che funzioni lo slot non funziona lo slot non funziona sì sì sono piacevoli molto carini sono dei tributi no no ma volentieri anzi poi più piccole le cose sono no bello bello mi piacciono e che forse io ormai dovendomi pulire casa meno cose ho in giro quindi non voglio anche la versione piccola di una cosa che ho già però ci sta probabilmente come prodotto da vendere io invece ti volevo abbandonando per un secondo le console volevo chiederti un parere sul mercato sul panorama PC nel senso che cosa ne pensi cioè ad esempio io faccio una gran fatica a trovare un bel design a parte Apple che però non uso per altre ragioni da un po' di anni stando su Windows trovo che sia veramente complesso trovare PC con un bel design se parliamo di PC da gioco peggio che andare di notte secondo te c'è una ragione è una sorta di pigrizia anche lì è invece soltanto una risposta delle ragioni di mercato c'è qualcos'altro eh guarda io mercato di PC non so veramente niente ho mai giocato a PC non so niente però ho i riferimenti hiper pop quindi Alienware ok quelli lì guarda c'è stato una volta un brand che mi ha contattato per rifare un PC gaming proprio assolutamente gaming alta potenza ma con l'estetica Apple e era una roba che mi incuriosiva poi è sparito è sparito nel vuoto però guarda ti potrei dire che banalmente può essere che il team di design di queste grosse aziende è abituato a fare le cose così non ha alcuna intenzione di cambiare magari davvero un PC gaming estremamente minimal potrebbe funzionare non lo sappiamo ok e visto che hai lavorato hai studiato hai lavorato un po' anche in altri paesi tipo in Asia poi per chi andrà a vedere il tuo canale il tuo canale YouTube sa che anche hai viaggiato negli Stati Uniti insomma ti sei fatto un'idea c'è questi prodotti che comunque vengono venduti in tutto il mondo secondo te quanto è complesso trovare un bilanciamento che possa piacere a persone di insomma di posti differenti in giro per il mondo oppure secondo te non c'è la necessità di porsi troppo il problema di sto facendo un prodotto che deve essere venduto sia in Giappone che in America che in Europa perché alla fine quello che piace piace un po' ovunque allora era più difficile un tempo e un tempo proprio gli stili erano diversi c'era Europa America Giappone Asia erano completamente diversi ma proprio banalmente anche il mercato dei telefoni Sony Ericsson che faceva dei telefoni per l'Europa e per il Giappone avevano delle esigenze estetiche completamente diverse adesso no perché si è un po' tutto mischiato in un gusto estetico abbastanza uniforme chiaramente l'Asia prediligia ancora delle cose in negativo se vogliamo perché hanno poca cura delle interfacce hanno poca cura delle texture dei pattern sono un po' disastrosi da quel punto di vista però diciamo che adesso se progetti in America progetti per tutto il mondo e va bene per tutto il mondo cerchi di progettare di fare qualcosa minimal in generale e va bene per tutti ok e ok allora volevo invece iniziare a chiederti un paio di spunti che sono arrivati dalla chat che ci riportavano al gaming ad esempio chiedevano cosa ne pensavi dei dispositivi VR dei visori se ce n'è qualcuno che ti piace se ci vuoi raccontare qualcosa beh allora due di riferimento a livello estetico eccezionali sicuramente tutto il lavoro che sta facendo Microsoft con l'Hololence quel prodotto lì a livello estetico è una follia incredibile è veramente meraviglioso poiché si è limitato quello è un altro discorso dal punto di vista gaming quello non è pensato per il gaming mentre ho provato di recente l'Oculus Quest si chiama quello senza fili è bellissimo veramente iper contento anche l'usabilità mi è piaciuta un sacco ho ancora secondo me c'è da fare ancora enormi passi avanti per quanto riguarda i pad che sono effettivamente ancora molto complessi devi tenere le mani in un certo modo sono tanti i tasti non sai dove sono i tasti però l'usabilità è fighissima anzi sono rimasto stupito del fatto che non me l'aspettavo quasi del fatto che non solo riesci a definire la tua stanza ma quando vai oltre il bordo della stanza che ti definisce ti fa vedere cosa c'è nella tua stanza quindi con le telecamere sì secondo me ottimi è fatto molto bene è fatto molto bene secondo me poi è leggero a questo modo di metterlo su un po' come aveva introdotto la Playstation Playstation VR secondo me io sono super carico da quel punto di vista cioè secondo me devono cambiare devono cambiare i giochi per essere cioè riformulo secondo me è estremamente stimolante quel mondo lì ma devi ripensare i giochi in un modo completamente diverso quindi esperienze molto più corte e molto più faticose cioè secondo me un'esperienza di un Call of Duty VR non devi farlo uguale lo fai di 4 ore però di 4 ore che dopo 15 minuti senti già il peso dell'aver fatto quindi magari c'è anche del movimento fisico capito c'è anche del correre ci sono ci sono poi ti mando qualche link hanno già pensato delle periferiche non praticissime che sono tipo dei tapirulan che addirittura funzionano a 360 gradi ti puoi spostare sì diciamo che il problema qua si va un pochino più su un discorso di videogioco il problema è che chiaramente sono tutte barriere di ingresso molto alte che poni per andare a vendere poi milioni di copie perché già avere il visore è una spesa e comunque deve avere qualcuno che se lo mette diciamo che è quasi più un prodotto da sala giochi pensato però attenzione un po' io non sto pensando a questo treadmill 360 immagina proprio il call of duty dove metto solo il visore magari questo visore riesce anche a percepire la posizione delle mani non lo so ipotesi oppure ci sarà un altro dispositivo però per esempio per correre devi correre sul posto o camminare devi camminare sul posto quindi secondo me a livello di usabilità di user experience riesci a trovare un modo è anche accessibile però devi proprio definire delle linee guida da seguire vediamo di sicuro diciamo questa nuova vita della VR ancora avrà parecchio da dire poi adesso siamo all'alba di una nuova generazione di console vedremo ad esempio Sony cosa farà con il suo playstation VR che di sicuro verrà verrà rinnovato invece non so se hai presente il prodotto Labo di Nintendo sì è quello che lì cosa ne pensi perché lì è un esperimento fondamentalmente interessante è un po' veramente un ritorno al giocattolo ma anche la tecnologia che incontra il materiale è una cosa un po' particolare secondo me bella nel senso che chiaramente non è per non è per un adulto però è veramente un giocattolo intelligente per i bambini del ventunesimo secolo a livello di design è una cosa interessante bellissima no no bellissima e riportare questa creatività così spinta del fisico del costruire per poi giocare anche tutta l'esperienza del montaggio è curatissima bello molto bello super approvato sono d'accordo molto figo e invece chiedono sto leggendo un po' ci sono parecchie domande per te quindi ne sto un po' passando in rassegna cosa ne pensi dei games and watch di nintendo non so se sei presente quelli vecchissimi erano vabbè poi magari era più che altro una curiosità sono dei vecchissimi giochini portatili che però avevano il gioco precaricato se cerchi games and watch sono abbastanza sono abbastanza famosi belli penso anche abbastanza iconici ormai persi completamente sono molto fighi iper limitati perché c'era diciamo il gioco già precaricato dentro dovevi dovevi attenerti a quello però molto fighi li hanno rifatti anche quelli in modalità addirittura forse ci sono in versione portachiavi games and watch ci fanno una domanda invece su playstation 5 se secondo te sarà cioè si inventeranno un modo per farti cambiare saranno intercambiabili le paratie non credo ma cioè quelle due cose laterali molto difficile perché come ho detto altre volte sono scocche molto spesse molto grandi e anche cambiarle per una ipotetica edizione limitata costerebbero tipo 40 euro a scocca te le farebbero pagare 30-40 euro a scocca difficile non è pensabile e invece c'è un utente che faceva un un appunto sul design di Wii che secondo me potrebbe essere uno spunto per parlare anche un po' di come prima abbiamo detto come il design si debba parlare con la parte ingegneristica ma magari il design deve parlare anche con la parte di marketing perché dice per capire il design di Wii ottimo dal suo punto di vista ovviamente iper legittimo dovete contestualizzarlo nelle campagne pubblicitarie di Nintendo dell'epoca cioè un progetto di design viene creato anche in alcuni casi con tutto il progetto marketing attorno quindi come come viene comunicato come vengono fatte le pubblicità i banner e tutto il resto si 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 ma infatti lui ha ragionissimo mi ricordo anche io questa pubblicità dove c'era non c'era era il bimbo che giocava c'era la famiglia c'era il nonno era veramente un prodotto per tutti da salotto quindi si ma guarda nella parte di progettazione di un design non c'è solo l'estetica c'è proprio tutta la ricerca prima di arrivare all'estetica quindi assolutamente ok e ti fanno una domanda sui controller perché prima hai parlato di Wiimote e ti chiedono dall'altro diciamo dall'altra dall'altra parte quali sono i design che invece reputi riusciti dal punto di vista proprio del controller del controller purtroppo so che adesso mi prenderò delle offese ripeto io sono grande fan Sony o Playstation però il lavoro che ha fatto Microsoft anche sul controller è meraviglioso cioè a livello estetico ripeto andate sul sito Microsoft scrivete press images di questo controller guardatele da vicino hanno fatto cioè sono meravigliosi è veramente un bel design e tra l'altro è un design coerente che hanno migliorato da generazione in generazione è diventato sempre più minimal sempre più rifinito ok e tra l'altro anche lì è interessante andare a vedere come non soltanto Xbox ha fatto un salto in avanti davvero importante per quanto riguarda il design della console ma anche i controller c'era non so se l'hai mai visto il primissimo controller della prima Xbox che era una roba gigantesca pensata chiaramente per le mani di The Rock che io non mi ricordo penso in Italia tra l'altro ora in chat di sicuro mi sapranno aiutare non mi ricordo nemmeno se era arrivato quel primissimo controller ma c'era una roba veramente gigantesca invece invece l'ergonomia dei controller Xbox degli ultimi anni devo dire sono molto buoni ma lì è evidente che c'è c'è un progetto di c'è un progetto molto intelligente fatto su Xbox che è ad ampio respiro cioè nel senso chiaramente sanno dove stanno andando non è un progetto fatto prodotto per prodotto perché ad esempio non so se hai mai visto i controller elite di Xbox che sono diciamo una versione e cioè chiaramente è una rivisitazione per l'appassionato che vuole diciamo qualcosa di più dal controller Xbox e però non è che sembra una cioè le aggiunte non è che sono un po' sticce comunque si integrano bene nel design del controller evidentemente quando hanno creato quel controller già si sono lasciati lo spazio per fare qualcosa di più e penso che per progetti comunque di così lunga durata come possono essere quelli delle console o comunque l'impegno nel mercato dell'intrattenimento di Microsoft sia importante tenersi uno spazio per dei miglioramenti hai assolutamente ragione e in realtà tutte le periferiche di Microsoft adesso mi viene in mente il controller quello lì per le disabilità anche quello che è completamente diverso è una roba completamente diversa è perfettamente coerente sia con il controller della famiglia attuale che delle console cosa che in Sony non è mai stata così cioè io mi ricordo il Playstation Move che aveva queste pistole l'estetica di tutte le pistole era tutte diverse ogni volta che presentavano un accessorio erano completamente diverse questo un po' per rispondere al fatto che a me le critiche sono arrivate nel mio video sono tipo ma figurati se quelli della Playstation i design della Playstation sono iper pagati queste cose qui non lo sanno purtroppo nella realtà dei fatti queste decisioni vengono fatte da poche persone magari dal capo del progetto magari dal riparto marketing e quindi ci sta l'errore ma ci sta anche avere una sensibilità all'estetica completamente diversa quindi brava Microsoft Sony però allo stesso tempo ti chiedo un'altra cosa io penso che la mia opinione è che è chiaramente molto più difficile cambiare quando hai un prodotto di successo in mano cioè nel senso che a un certo punto Microsoft cambia perché chiaramente aveva sbagliato qualcosa e quindi è abbastanza semplice fare un reset totale ci ha detto ma si riparte ad esempio il controller è clamoroso Sony invece è un prodotto iconico dal punto di vista del controller perché comunque le varie iterazioni del DualShock sono state insomma vengono ancora dal primissimo controller di Playstation e poi sono diventate iconiche è molto è complesso cambiare design quando vieni da un prodotto di successo no no è complessissimo è praticamente impossibile vuol dire che il punto di vista del singolo designer oppure del team design che vuole fare questo cambiamento così radicale deve andare contro tutte le altre decisioni se vuoi più logiche più razionali degli altri team magari il team marketing dice ragazzi non possiamo prenderci questo rischio dal momento che fino ad adesso ci è andata sempre bene non ha senso perché effettivamente ha poco senso però i team di design veramente con delle palle così anche Apple che ha avuto sempre prodotti di successo ma si è preso il rischio di fare delle scelte iper coraggiose quindi di togliere certe funzioni di togliere certe cose cioè lo slide to unlock era un segno di Apple e ha deciso di toglierlo per fare queste robe qui così coraggiose devi avere tantissimo coraggio devi andare contro a tutti quelli che nella tua stessa azienda ti diranno che non è una buona idea e là è una scommessa è completamente visione del designer ok e allora volevo ti chiedono una tua opinione non so se l'hai visto sullo Switch Lite che è quello se lo cerchi è una versione di Switch rivista per essere fondamentalmente solo una console portatile ah sì l'ho visto l'ho visto l'ho visto beh sì è piacevole molto piacevole si vede che ci sono dei dettagli probabilmente più economici può essere sì assolutamente è una sorta di versione più sì più economica fondamentalmente più economica non l'ho visto nel dettaglio anche dietro no no certo è carino sì sì piace ti dico che ci sono sono diverse persone in chat sono fan sono fan bella anche la paletta dei colori bellissimi colori esatto il colore com'è che lo quando fai perché quello che vediamo secondo me spesso ad esempio ad esempio nelle console le console portate di Nintendo sono un buon esempio cioè la scelta dei colori come avviene quando fai il prodotto più economico magari la revisione più economica ti puoi andare a prendere qualche rischio tra virgolette in più rispetto al prodotto all'uscita molto costoso cioè chiaramente non lo so se vediamo Series X o Playstation 5 hanno scelto un bianco con poi vabbè altri innesti e un nero non so esattamente che colore sia però diciamo un colore scuro abbastanza neutro quella è una scelta obbligata quando è un prodotto costoso nuovo in uscita sì è una scelta safe perché sai che sono dei colori neutri si adattano bene bene in ogni contesto Switch ha presentato immagina se la Switch avesse presentato solo la console con i colori o sbaglio all'inizio hanno presentato tutte e due all'inizio c'è diciamo la scocca è grigia e c'era soltanto c'era la possibilità di scegliere cioè di avere o i due Joy-Con tutti grigi oppure semplicemente di avere l'alternanza con i Joy-Con di due colori esatto vedi che hanno dato la possibilità una versione per tutti proprio safe e l'altra versione per chi voleva una roba in più però se avessero presentato solo la versione colorata magari qualche cliente te lo bruciavi a caso cioè per nulla invece prima in chat ti chiedevano perché chiaramente hai detto sia l'altra volta che questa che comunque il design di Series X è un design che ti è molto piaciuto dove sta la complessità nel fare un design minimal cioè un design semplice cosa rende complesso è infinita cioè la complessità è infinita nel senso che innanzitutto ci sono tanti piccoli limitazioni proprio funzionali l'aria da dove passa da dove deve passare veramente piccole cose che voi non avete neanche idea cioè la console Xbox sotto ha un piccolo piedistallo un piedistallo di un rialzamento di sarà 3-4 mm cioè quello lì perché è stato fatto perché l'aria doveva in qualche modo passare da sotto e là poi ci sono delle micro micro problematiche scalda cosa succede la polvere cosa fa con la polvere cioè sono tantissimi problemi che per risolverli aumentano la complessità del tuo disegno in un modo disastroso e rimanere fedeli all'idea iniziale così semplice non è facile per un cavolo anche perché poi quando devi assemblare una roba devi assemblarla tenendo in considerazione il processo produttivo e il processo produttivo ha tutte delle sue regole delle scocche non le puoi stampare magari di sopra devi stampare solo di lato se le stampi solo di lato vuol dire che non ci possono essere dei fori ci sono tantissime regole e ripeto fare un design semplice vuol dire che sei riuscito a girare questi miliardi di regole che ci sono nel mondo del disegno industriale ok visto che siamo praticamente in chiusura ti volevo lasciare spazio per rispondere a una domanda che penso insomma sia importante per te dove possono trovare i tuoi lavori dove possono vedere i tuoi lavori se vuoi dare tutti i tuoi contatti tutti i tuoi riferimenti non voglio farlo io troppo in un secondo perché poi magari dico delle cazzate allora semplicemente scrivete breccia su youtube il portfoglio prima avevo un sito mio col portfoglio però alla fine mi sa che non c'è più perché lo dovevo aggiornare e fortuna che adesso da freelancer sono così impegnato a lavorare che non ho più bisogno di un portfoglio quindi quello che avevo è vecchio anche perché la maggior parte dei clienti che seguo mi chiedono di firmare un contratto di segretezza quindi i progetti visibili sono di due anni fa e non mi sembrava il caso però su youtube ci sono molte cose quindi sicuramente lì ok allora ragazzi chiedo conferma in regia che praticamente dobbiamo chiudere giusto vince ok ho ricevuto un yes rapidissimo allora grazie Riccardo ovviamente per il tuo tempo andate a iscrivervi sul canale youtube di Riccardo Breccia e noi ci risentiremo sicuramente perché abbiamo chiuso il cortocircuito promettendoci di risentirci quando ci sarebbe stato quando ci sarebbe stata la possibilità di mettere le mani su PlayStation 5 c'è stata questa opportunità intermedia ma insomma ci risentiamo presto quando avremo qualcosa di concreto sulle nuove console in realtà magari ci confronteremo con console alla mano sia su Series X che su PlayStation 5 è sempre un grande piacere grazie ancora grazie mille per averci seguito e restate con noi perché adesso devo dire la verità mi sono scordato di vedere la scaletta ma adesso avremo una avremo il panel sull'annoso problema del backlog che comunque è un argomento molto interessante che coinvolge praticamente tutti i giocatori soprattutto in periodi di sconti estivi e poi subito dopo avremo Elder Ring quindi si parlerà di From Software alcuni tra i giochi più amati e uno tra i giochi più attesi attualmente in sviluppo grazie ancora Riccardo e ciao a tutti ci vediamo tra 5 minuti 5 ciao 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 Grazie a tutti.